Grande successo per la seconda serata dei Le Fonti Awards, CEO Summit & Awards, tenutisi venerdì 24 novembre nella prestigiosa location di Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, con il patrocinio della Commissione Europea. La premiazione è stata preceduta da un CEO Summit dal titolo Innovazione e Leadership, valori in evoluzione in un'economia che cambia, e ha coinvolto gli amministratori delegati di Sandoz Italia, Oiler Hermes, Ederred, Grupa Maa Asset Management e Porsche Consulting. La cerimonia di premiazione ha nuovamente premiato le eccellenze professionali, imprenditoriali, finanziarie e assicurative del panorama italiano, che hanno dato particolarmente risalto a Innovazione e Leadership. Andiamo sulle imprese con la categoria Formazione. Eccellenza dell'anno Innovazione e Leadership Formazione, il premio viene assegnato ad Alta Formazione, per essere un'eccellenza italiana da oltre 16 anni, per essere un punto di riferimento tra i player del settore e del digital learning, puntando su innovazione e creatività nella promozione di soluzioni formative digitali e di metodologie didattiche di nuova generazione. Complimenti. Dottor Zingales, Alta Formazione si è aggiudicata ai Le Fonti Awards 2017 come eccellenza dell'anno per Innovazione e Leadership nella formazione. Come commenta questo riconoscimento? Bene, noi innanzitutto siamo felicissimi di ricevere un premio così prestigioso e soprattutto in una cornice così importante e meravigliosa che è Palazzo Mezzanotte di Borsa di Milano, Tempio della Finanza e dei Mercati. Mi piace appunto commentare due significati importanti di questo premio. Il primo è appunto l'eccellenza nell'innovazione, perché noi da sempre siamo stati innovatori e quindi abbiamo nel DNA questa propulsione innovativa e creativa. I clienti lo sanno bene e ci riconoscono questo valore. L'altro significato per me molto importante è quello dell'eccellenza nella leadership. Oggi ci giriamo e dove ti giri, ti giri, vedi sempre autoproclami di leader, di numeri uno, di guru internazionali. Secondo me invece la leadership è un aspetto importante di responsabilità, perché la leadership non la persegui, la conquisti con il lavoro giorno dopo giorno, con l'esperienza, con la competenza e con la passione. Per cui noi siamo molto onorati di aver ricevuto anche questo riconoscimento come eccellenza nella leadership, perché la sentiamo con molta responsabilità. Infatti da 16 anni siete tra i principali player del cosiddetto digital learning, quindi una nuova modalità di formazione. Che valore aggiunto è in grado di dare il digital learning? Grazie della domanda. La risposta per me è molto semplice, appunto come diceva lei da 16 anni che ci occupiamo di digital learning. Prima esisteva solo l'aula, l'aula quindi unica ricetta, unico ingrediente. Oggi le aziende hanno ben compreso l'importanza del digital learning e del valore che ha il digital learning nelle grandi organizzazioni, ovvero un altro ingrediente e diciamo è un'altra ricetta, la possibilità quindi di mixare quindi da quello che era diciamo un approccio monomodale a un approccio multimodale. Oggi si parla molto di learning path, di percorsi di apprendimento, dove l'aula è soltanto una di queste componenti. Esiste l'aula, prima esisteva diciamo l'aula in termini di evento one shot, tutto qui e ora. Adesso è importante progettare e sviluppare soluzioni dove il percorso è un percorso multimodale, dove le opportunità di apprendimento vengono estese e sono molto molto più ampie nel tempo. Che tipo di impatto avrà l'evoluzione tecnologica negli sviluppi futuri della formazione? Allora proprio perché sono sviluppi futuri nel senso il futuro non è proprio così facilmente prevedibile. Ciò che guida molto e lo vediamo nella nostra vita quotidiana è proprio l'impatto che hanno le tecnologie nel nostro modo di vivere, nelle nostre modalità appunto di vedere, ma sia nel sociale, nel lavoro, nei comportamenti, nella comunicazione quotidiana. Formazione, se ricordiamo l'etimologia della parola significa dare forma, quindi la formazione ha veramente un ruolo fondamentale, cioè quello di adattarsi ai cambiamenti che in qualche modo subiamo dalle tecnologie. Quello che diciamo venendo diciamo agli aspetti più di tecnologia, di sviluppo tecnologico, oggi si parla molto di realtà virtuale aumentata, di mixed reality, ma anche di nuovi format video. Tutti i player di questo mercato dovrebbero favorire l'innovazione e la creatività. Negli sviluppi futuri, invece di alta formazione in particolare, che cosa c'è? Allora, sviluppi di imminente futuro, sicuramente vorrei ricordare un appuntamento che per noi è fondamentale, a questo punto proprio da leader, da guida di questo mercato, noi organizziamo ogni anno il Corporate Digital Learning Summit. A maggio del 2018, il 10 maggio in particolare del 2018 avremo un'ulteriore edizione. L'obiettivo del Corporate Digital Learning Summit è quello di unire insieme le migliori best practice all'interno del mondo corporate nel digital learning. Dopodiché, progetti molto ambiziosi, non nell'immediato, ma stiamo avviando un percorso di quotazione e il secondo round, il primo sarà quello della quotazione e il secondo round sarà quello di diventare global, di diventare internazionale. È un progetto ambizioso, però abbiamo persone molto competenti, siamo un'azienda vera che è cresciuta in maniera sana, robusta, abbiamo delle persone veramente importanti e fantastiche per cui ci crediamo molto e come si dice in questi casi non ci facciamo mancare niente. Ancora congratulazioni e speriamo di testimoniare costantemente questi nuovi traguardi. Grazie a voi, grazie a voi.